Al via oggi l'attesissima prima prova degli esami di Stato 2013. Intanto per chi non è impegnato con gli esami, le vacanze scolastiche sono cominciate da pochi giorni, ma le date del prossimo anno scolastico sono già state programmate. L'anno scolastico 2013-2014 comincerà il 16 settembre e terminerà il 7 giugno, per un totale previsto di 204 giorni di lezione. Per le sole scuole dell'infanzia le attività educative termineranno il 30 giugno 2014. Così è deciso la giunta regionale della Campania. Le scuole per motivate esigenze turistiche del territorio di riferimento e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio possono deliberare di anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle lezioni. La giunta regionale ha deciso di confermare il giorno 19 marzo dichiarato festa dell'argalità in ricordo dell'uccisione di Don Peppino Diana come giornata dell'impegno e della memoria nel corso della quale le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche in sintonia con quanto la regione prevede di realizzare. Abbiamo deciso, sottolinea l'assessore all'istruzione Caterina Miraglia, di confermare la scelta di celebrare in aula il 19 marzo, giorno della festa della legalità, incidendo sul programma scolastico che in quel giorno vedrà impegnati i docenti e studenti sui temi della cultura e dei valori della legalità. Nel contempo si è confermata anche la scelta della festività del 2 novembre per consentire alle famiglie e agli alunni di rispettare nel solco della più nobile tradizione il culto dei morti.